Andrea Gianbruno sta affrontando le conseguenze delle sue dichiarazioni inopportune degli ultimi giorni. Il giornalista ha perso il suo lavoro e la compagna, ma non si arrende. Ha la speranza di tornare alla conduzione di Diario del Giorno, anche se la decisione finale spetta a Mediaset. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire gli ultimi aggiornamenti, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Dopo gli incidenti al microfono durante la trasmissione di Striscia la Notizia, la carriera e la vita sentimentale del 42enne giornalista sono collassate. Ha ricevuto due segnalazioni all'ordine dei giornalisti e si è sospeso volontariamente per una settimana. Questo periodo è servito anche a Mediaset per valutare come gestire la situazione. Coloro che lo conoscono dicono che ora è distrutto, quasi in lacrime, ma con la determinazione di ricominciare e di tornare a condurre Diario del Giorno, il programma che va in onda quotidianamente su Rete4. Al momento, il programma è condotto da Manuela Boselli. Mentre i vertici di Mediaset a Cologno-Monzese decidono il destino di Gianbruno, lui si trova in un albergo a Milano, dove si è trasferito dopo la rottura con la Meloni. Mentre si trova in camera d'albergo a Milano, Andrea Gianbruno attende notizie sul suo futuro lavorativo da Mediaset, che potrebbe prendere una decisione oggi stesso. Ci sono diverse possibilità. Potrebbe ritornare a condurre Diario del Giorno, oppure potrebbe essere congedato. Tuttavia, potrebbero esserci anche altre opzioni, come un ruolo meno prominente, magari dietro le quinte o in un programma differente. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.